E da Rapprodascio, Isola Esparta e Renato De Paoli, sud della Grecia, mare Egeo, nave crozierà a Costa. Per prendere avvio l'operazione di emergenza di recupero di un malato attraverso un elicottero. Oggi 16 luglio 2010, 11.10 ora locale. Mentre ora italiana sono le 10.00 e 0.10 circa. Il risultato però ha preso le misure, si sta avvicinando la poppa in direzione per recuperare un malato. Adesso stiamo vedendo l'avvicinamento. C'è un discreto vento che può ostacolare e creare qualche sicuro disagio dell'elicottero che però si sta avvicinando. Vediamo ingrandirci il risultato. Sembra un'elicottero militare, colore verde scuro. C'è una certa difficoltà per il vento sicuramente, per la nave che è in movimento. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.